Noi stiamo lavorando su tutte e tre le infrastrutture fondamentali di questo territorio. Sul tema dell'aeroporto stiamo ragionando sulla continuità territoriale con l'Unione Europea e aspettiamo risposte che ci auguriamo essere positive perché soprattutto l'aeroporto qui a Crotone e quello di Reggio Calabria hanno bisogno di queste risposte. In secondo luogo andiamo avanti a sprombattuto sulla 106 Ionico, ovviamente con un programma temporale che vede prima l'apertura del terzo megalotto, ma sulla 106 Ionica nei prossimi tre anni noi dobbiamo avere almeno i lavori tutti aperti, i cantieri tutti aperti. E poi la parte ferroviaria che per me è quella più strategica in assoluto anche sul fronte turistico. Prima dicevo che è in corso l'upgrade tecnologico da Melito che quindi non taglia più fuori quest'area che vede un investimento da parte di RFID di 397 milioni, che era la cifra che mi ero dimenticata prima. Inoltre il 30 gennaio mando in conferenza unificata le risorse per le strade provinciali. Sono oltre 40 milioni di euro per tutta la Calabria e 4 milioni per questa provincia. Sono risorse che saranno disponibili in termini di competenza e di cassa per i prossimi due o tre anni. E quindi ci sarà la possibilità sul primo anno di finanziare cose già pronte, già progettate e poi invece di avviare le progettazioni per altri interventi stradali.